ciao a tutti bentrovati ciao 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 e bentrovati veramente a un nuovo episodio di Max Payne ci eravamo lasciati dove in questo punto ne avevano un tram trucidato sti maledetti stavolta ho vinto io con un po di cuglia sempre senza energia ma che ci volete fare d'altronde ci vuole anche un po di culo quindi chiavi ce ne ho o non ce ne ho vabbè neanche qua spunta di nuovo non riesco a fermarlo no che sarei questo non vedete più oppala adesso si è aperta la porta bellissimo che non abbiamo neanche energia chi è che c'è qua? dai scegli almeno un po di energia e vediamo se con il miracolo riusciamo a ah c'è sempre questo diato a rachi cosa dire? è crepato da solo sto scemo non mi puoi uccidere che cazzo crepa cazzo sei la bella addormentata nel bosco fuori posto poi anche tra l'altro brutto bidè che non sei altro eh ma non ho energia cazzo ok capitolo 5 un pericolo su due gambe almeno fammi tornare l'energia avvero ogni volta che andiamo in un'altra si vabbè ma qui dove siamo finiti mentre mi specchio tu vieni qui ero arrivato tardi per lei vabbè intanto guardo prima faccio i cazzi miei scusa eh con permesso vengo da te intanto ormai sei morta mi curo ti guarda intanto ormai poveretta è passato il miglior vita non riuscivo a capire se era mona o la sorella il corpo era a pezzi il fottuto bastardo ci aveva veramente preso gusto vedere il corpo disteso sul letto mi fece tornare alla ventunardo corpo un altro letto insieme a una culla per terra c'è un telefono che suona dove ecco pronto? Max Payne presenti Alfred Wood avete compagnia è appena atterrato in giardino un elicottero da combattimento deve fare in fretta prima è meglio è fine della corsa Payne cazzo ti ho sparato un caricatore nelle gengive sei ancora lì vivo? porca di quella mignotta ah ma porca troia cazzo un caricatore nei denti ti ho scaricato e sei ancora vivo? ed eri ancora vivo pardon va bene vive anche i baffi maledetto il trio di puncinello non esisteva più guardate questo che oi permesso no questo non è un un inchiappetamento era solo che magari niente volevo vedere cosa facevi sai non è nei miei gusti presto ecco a fuori sta venendo per me dovete muovervi vi prego devo sentire puncinello al telefono implorare aiuto avrebbe dovuto dentare le sue ultime volontà puncinello era un debole nel momento in cui entrai si accaciò con una coppia contro una scala reale no aspetta stavo eseguendo gli ordini non potevo evitare lei è molto in alto forse è il governo non so stava cercando di comprare altra sabbia per la sua trissidra ma io non ne avevo da vendere opplala no non gli ho detto niente vaffanculo porca troia come cacchio faccio con un colpo a farne fuori tre insomma c'è sono arrivati i men in black qua a uccidermi volevo arrivare a fare un salvataggio senza essere morto almeno insomma almeno più di una volta e no il tipo mi frega si siamo curati vabbè ho capito ma cazzo butto via della grande energia io ero arrivato tardi per lei sei il mio lancio andiamo avanti e ma crepa porca non 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 ok un altro movimento non ho energie non ho che ho tralasciato no a me però non ci ho pensato non credo no andiamo a questo armadio forse no tutto finto ho il destino segnato presto no non gli ho detto niente cazzo vi basta no eh cazzo non mi ha avvertito Fine del giorno, Mars Vane. Sapevo quando era a casa di arrendersi. Era giunta l'ora di beccarsi un altro vestaggio. La misteriosa strega era un vero barracone, un pericolo su due gambe, un fucile ad assalto fumante in mano e un esercito di agenti nero. Che sorpresa. Ho l'occasione di uccidere due piccioni con una fava. Prima o poi sapevo che l'avrei dovuto affrontare. Signor Vane, è giunta l'ora di mostrarvi i benefici del mio infusio. C'è il bravo barbino? Stavo per scoprire che la mia fortuna era una meredice. E io avevo finito i soldi. Sulle strade del paradiso, parte 3, un vortice di sangue verde. Signore, qui abbiamo venuto. Portatevi con il segno. Mi aveva appena somministrato un overdose di Valkyria. Potevo sentire il fuoco verde bruciarmi nel cervello. Si trasformarono in vapore, ero come un tenebrato, non avevo speranze. Mi aveva fregato. Era stato semplice come buttarmi la pistola alla teppia e premere il grilletto. Le ombre mi approssero, visi indistinti, desiderosi di vendetta, mi deridevano. Conoscevano i miei punti deboli e si preparavano all'attacco. Il pavimento si trasformò in un vortice di sangue verde. Cadde. La carne degli angeli decaduti. Ok, direi che con questo video un Max Payne stravolto da un'iniezione fatale, quasi per lui. Ci salutiamo qui. Quindi da Luca CSS un mega saluto. Questo è Max Payne, il primo inesorabile giocone uscito circa 12 anni fa per PC, PS2 credo. E poi riveduto e rivisto per altre console, anche per iPad. Nei giorni, uno o due anni fa, nei giorni nostri insomma. Ok, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao.